Oh, scusate, mi stavo preparando al nuovo rilancio di Dilan Dog. Wabalabadab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dilan Dog serie regolare. Inizia il trittico di storie che dovrebbe riportare Dilan Dog al Dilan Dog dei fasti, al Dilan Dog classico. Cosa vuol dire? Non lo sappiamo, non lo abbiamo capito o quantomeno io non lo avevo capito finché non ho letto questa storia. Dilan Dog numero 435, due minuti a mezzanotte, titolo che cita una canzone degli Iron Maiden e che io credo di aver letto, tra l'altro, a due minuti da mezzanotte. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno un doppelganger e di commentare qui sotto. Con quello che viene parso di questo numero, di questo video, se avete letto il Colorfest, se avete visto la mia recensione nel Colorfest, se avete trovato gli easter egg e fatemi sapere cosa ne pensate di questo rilancio e se con questo numero iniziate un pochino a crederci di più. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok, soprattutto gli ultimi due, anzi soprattutto Twitch, su cui sicuramente faremo una live per parlare di questo rilancio. Partiamo innanzitutto dalle note tecniche di cui io solitamente me ne sbatto le balle, ma ci tengo a precisare che questo numero appunto è... il soggetto di questo numero è di questo Claudio Lanzoni, su cui tanti hanno fantasticato. Chi è Claudio Lanzoni? Non l'ho mai sentito prima, oddio, è un alter ego di Tiziano Sclavi, o no, è uno sconosciuto, no, è un alter ego di Roberto Recchioni che invece è alla sceneggiatura. Chi è qui, chi è là? Fondamentalmente. Queste sono le domande che potreste trovare nelle recensioni degli altri, perché solitamente se ne fregano di chi ha scritto la storia, di chi l'ha disegnata, io un po' meno, non me ne vogliate, però io guardo alla narrazione e basta, mi dispiace. Soprattutto nelle case editrici molto grandi, però se volete un mio parere, dato che è di pochi giorni, l'annuncio che Gianmarco Fumasoli, editore e sceneggiatore di Samuel Stern, sceneggerà delle storie di Dylan Dogg, mi viene da pensare che non è quindi una grossa novità che anche Claudio Lanzoni appunto sia un nuovo sceneggiatore della testata. Pare che tra le varie novità per un ritorno al classico di Dylan Dogg, semplicemente stiano aprendo le porte della Bonelli anche a nuovi sceneggiatori finalmente. Ed è paradossale che le nuove storie dei nuovi sceneggiatori di Dylan Dogg ritorneranno al Dylan Dogg classico. Ma cosa vuol dire questa cosa? Lo si capisce da una specifica tavola di questo numero che poi andremo a vedere. Ma invece di cosa parla questo numero? Questo numero non vi voglio dire che per capirlo siate obbligati anche a comprare il Colorfest, ma sicuramente se comprate il Colorfest e lo leggete prima di questo numero avete una lettura più ricca di questa storia medesima. Questa storia parte mostrandoci il punto di vista di John Ghost, che sappiamo esserci anche nel reboot di questa storia dilaniata, di questa soft reboot post-666 di Dylan Dogg, e fortunatamente che è stato sostituito all'ultimo nella saga del buio, dove ha preso, diciamo, la parte di quello che doveva essere Lord Wells, perché altrimenti non avremmo nemmeno mai visto John Ghost fino ad ora. Sarebbe stata la sua prima apparizione. Magari qualcuno si sarebbe lamentato, e ma nel nuovo rilancio nel reboot non c'è John Ghost e invece qua c'è... C'è, c'è, l'abbiamo già visto. L'abbiamo già visto, anche se non ha questo ruolo da magnate che controlla tutto, mentre, almeno non lo ha dato a vedere nel numero... in un numero di Dylan Dogg post-666, mentre qua si capisce che è il classico John Ghost che sa tutto, è in cima a un palazzo, scruta la realtà e trova dei glitch. È un chiaro riferimento anche alla saga di Matrix, più avanti nella storia lo abbiamo visto in modo molto più marcato, come tra l'altro Dylan Dogg non si preoccupava assolutamente di fare negli anni 80, negli anni 90, quando citava apertamente dei film proprio al limite del plagio, se ne sbatteva le balle e lettori di Dylan Dogg non lo notavano perché non tutti conoscevano quei film. Ma anche qua si cita palesemente Matrix, mostrandoci come la realtà in cui sta vivendo Dylan Dogg non è la vera realtà, o quantomeno è una delle realtà. Fondamentalmente di cosa parla la storia? Parla di questo pacco che Dylan Dogg riceve da qualcuno, che gli assomiglia molto da un altro Dylan Dogg, su cui tra l'altro Graucio scherza tantissimo, quasi a farci intendere che Graucio è tra quelle persone che sono un po' sovrannaturali, che sanno che c'è qualcosa oltre alla realtà in cui vivono, un po' come se banalmente sfondando la quarta parete sapesse che sono ambientati in un fumetto, e dice, sì, ti è arrivato un pacco e te l'ho recapitato il tuo alter ego dell'86. E vediamo che in questo pacco ci sono delle foto, delle foto che contengono appunto questi glitch, in modo da far capire in un certo senso a Dylan Dogg che la realtà che sta vivendo non è propriamente reale, che c'è qualcosa che non va, e l'unica foto senza glitch è quella di un hotel, dove tra l'altro c'è la foto di questa persona che sembra appunto il trooper, se non sbaglio, quello degli Iron Maiden, quindi una persona con la felpa, col cappuccio e con il volto mortifero, ma che può essere anche benissimo la cara amica morte con cui Dylan Dogg ha avuto spesso dei trascorsi, che gli sta cercando di mandare un messaggio. Lui si reca a questo hotel e trova solo appunto delle, diciamo delle, in questa stanza trova fisse, anzi scusate, prima trova un cadavere, trova un cadavere di una persona che sembra ricoperta di un materiale legnoso, di un materiale resinoso, esattamente come gli stessi, diciamo, zombie che ci sono nel Colorfest, e quindi per mostrare come tutto è collegato e come appunto da quella realtà cercano di far capire a questo Dylan che c'è qualcosa che non va. E poi in una sorta di sala macchina di quell'hotel trova un sacco di articoli di giornale che parlano appunto di come c'è qualcosa che non va in questa realtà. Notiamo come Dylan Dogg si sveglia in un altro luogo di Londra, ma forse anche in un'altra realtà, perché vede la stessa signora incontrata all'hotel, che però ha tutt'altra, come si dice, collocazione sociale, mentre nell'hotel era appunto la metra, la concierge, chiamatela come volete, qua invece è una ricca signora che passava per Piccadilly Circus, quindi è come se questo Dylan saltasse le realtà. E c'è appunto questo mietitore che cerca di comunicare con Dylan per fargli capire che c'è qualcosa che non va. La storia è tutta così, non c'è una vera e propria conclusione, è semplicemente un'introduzione, una lunga introduzione a quella che sarà appunto il rilancio del Dylan Dogg Classico. Quindi secondo me a qualcuno questa storia non piacerà per questo motivo, ma ciò nonostante si percepisce fin da subito l'atmosfera sclaviana delle origini. Da una cosa banalissima, io dalla prima tavola ho capito subito che si torna al Dylan Dogg Classico, c'è questi campi medi, questi campi lunghi che poi diventano campi medi e poi zoomano sul dettaglio della Ghost Enterprise in questo caso e questa voce, questo balloon fuori campo, a me ha riportato tantissimo a un'atmosfera anni 90 di Dylan Dogg. Anche le tavole classiche comunque stanno aiutando, nonostante non sono vecchie, sono classiche ma non vecchie ed è una cosa che sto apprezzando molto, ma soprattutto quello che mi ha dato più le vibes di un numero di Dylan Dogg scritto da sclavi sono proprio anche queste tavole surreali dove tutti a due minuti a mezzanotte svengono e totalmente a caso in un pub arriva una band di mostriciattoli che dal nulla si mette a cantare appunto la canzone degli Iron Maiden che cita il titolo di questo numero e poi non si vede più per tutto il numero medesimo ma potrebbe tornare nel prossimo quindi non è totalmente a caso ma questa causalità, questa casualità di sclavi cioè tipicamente sclaviana mi ha ricordato molto le sue vecchie opere poi finalmente vediamo che Dylan riesce in un certo senso a raggiungere questo tizio incappucciato che appunto come dicevo all'inizio cita Matrix in modo molto molto forte parlando della pillola blu e della pillola rossa quella che gli permette di restare nella realtà che sta vivendo anche se non gli sembra una realtà corretta oppure quella di vedere meglio la realtà però giustamente siamo in un fumetto in bianco e nero e dice sono entrambe dello stesso colore e questo appunto sfonda in un certo senso la quarta parete e Dylan risolve il problema inghiottendole entrambe vorrei farvi vedere questa cosa questa tavola innanzitutto c'è Dylan che sfonda proprio va nella colonnina bianca nella closure e la sfonda tra l'altro non deve essere stato facile stampare una cosa del genere perché la Bonelli raramente se non nel color fest esce dalle closure esterne ma soprattutto se voi fate questo movimento si collega tantissimo alle due tavole successive vediamo se riesco a mostrarvelo meglio quello che sto intendendo guardate oppla ecco fatto che figata non so se è voluto ma se è voluto tanta tanta roba se è casuale se è una cosa frutto del caos complimenti a John Cost per questa per questa tavola per queste tavole fondamentalmente dopo appunto queste tavole molto bianche dove appunto fanno capire che sono fuori dalla realtà fanno come si dice fanno vedere che Dylan Dogg sta cercando di arrivare appunto alla soluzione viene tirato in ballo come nei migliori numeri anche miliari dove segnano appunto una pietra miliare un punto quantomeno di che sancisce un rinnovo di Dylan Dogg si tira in ballo il veliero vediamo che Dylan Dogg appunto si accorge di essere di nuovo sul suo galeone che è quello che lui ogni mese ogni mese in ogni storia cerca di ricostruire ma non ci riesce mai ma soprattutto è anche il galeone del 399 perché vediamo che c'è il graucio vestito da mozzo e che dà una mano a Dylan Dogg vediamo che c'è una Londra surreale che appare dalle acque come se fosse Atlantide e come se fosse Venezia Dylan Dogg e Groucho dal veliero dal galeone attraccano proprio a Craven Road 7 questa è più o meno la tavola che abbiamo visto anche nel numero 399 ovviamente non disegnata da Stano ma disegnata da da Giorgio Pontrelli e quindi con uno stile molto diverso molto più stilizzato però appunto che richiama quella partenza di Dylan Dogg dal 399 ci mostrano proprio come quel Dylan Dogg sia tornato in porto e se nel numero Colorfest la toccavano piano questa cosa qui invece vanno proprio a gamba tesa a mostrarci come ci siano due Dylan Dogg di due realtà diverse e senza troppi problemi discutano di questa cosa di queste realtà che non tornano vediamo anche due Graucio che chiacchierano tra loro vediamo un Dylan seduto al suo posto e un Dylan seduto come si dice nella poltrona dei clienti ed è qua che si capisce che cosa succederà nel nuovo Dylan lo si capisce dallo sguardo dei due Dylan e da quello che le vignette che i Balloon dicono il Dylan Dogg ormai moderno si è incastonato troppo in se stesso troppo troppo rigido nei suoi schemi nelle sue prigioni che lui stesso si è creato in questi quasi 40 anni di editoria mentre il Dylan Dogg di una volta aveva un quinto senso e mezzo molto più sviluppato riusciva a essere molto più flessibile e aveva questo ghigno che gli faceva capire meglio la realtà tra le realtà ed è probabilmente a questo Dylan Dogg che torneremo il Dylan Dogg si prende troppo seriamente una volta non era così è una cosa che è già stata detta in passato ma probabilmente non non hanno abbracciato fino in fondo alla Bonelli hanno sempre cercato di tenere un piede in due scarpe forse questa è finalmente la volta buona dove cercheranno di fare un Dylan classico che non si preoccupa troppo di cosa direbbero gli adoratori dei primi cento o cosa potrebbe interessare alle nuove generazioni semplicemente si metteranno a scrivere un bel fumetto e quello che verrà verrà e forse è questo il vero ritorno a Dylan Dogg vediamo che nell'ultima tavola Dylan Dogg entra in un pub e conosce una ragazza che poi penso ci porterà alla storia del mese prossimo quindi questo è solo un intro però a me è piaciuta molto perché in poca età poche sono le solite 96 tavole ma di queste 96 tavole in poche tavole ho capito cosa intendono con il ritorno al classico di Dylan Dogg spero di vedere un Dylan Dogg molto più libero dagli schemi che si sono creati e che magari si contraddica anche tra un numero e l'altro ma che ci ricordi il Dylan Dogg dei primi tempi ci posso iniziare a credere forse io ho detto nel Colorfest che non ci credevo qua ci posso iniziare a credere magari non in una in una continuity perché non sono non c'è la possibilità di avere una continuity come io spererei in Dylan Dogg ma forse con un Dylan Dogg molto più libero si potrebbe tornare ai fasti degli anni 90 o quantomeno tentare di citarli meglio fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero di questa operazione se questo numero vi ha convinto un po' di più o vi ha confuso ancora di più io vi aspetto qua sotto nei commenti e vi aspetto anche nel prossimo video come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci alla prossima e con l'imbuto